Oggi si è riunito un Consiglio di amministrazione straordinario per iniziare a pensare a come aiutare il territorio di competenza, che è la città metropolitana più le province di Arezzo e di Grosseto, e cercare comunque di portare un aiuto sia alle strutture sanitarie sia al territorio e quindi a tutti gli abitanti. Abbiamo deliberato un milione e mezzo per quanto riguarda un fondo che sarà dedicato al terzo settore e sarà comunque erogato solo nel momento in cui avremo delle certezze dopo aver attuato una campagna di ascolto proprio tra gli abitanti e tra il terzo settore per quanto riguarda la necessità e le erogazioni da dover fare per aiutare in modo efficace, in modo completo il territorio. Per quanto riguarda le strutture sanitarie abbiamo deliberato un acquisto fino a 40 erogatori di ossigeno, quindi macchine per terapia intensiva e mezzo milione di euro di mascherine, quelle con il respiratore. Tutto questo verrà distribuito sul territorio grazie all'aiuto della Regione che ci dirà le necessità e come distribuire tutto questo materiale.